Tu sei bravo con i puzzle? Wow, ve la diciamo? No, aspetta, forse mi ricordo dove stavano 1, 2, 3 Allora, i bagagli sono di sotto, le pillole potremmo arrivare le altre prese Facciamo una bella foto di gruppo e siete pronti per saltare Allora, tutti vicini per la foto Un bel sorriso che la faccio felice Ma magari un po' meno felice Riso scotti integrale, 10 minuti Benessere che piace Giorno di sera, scendi il programma media serviva per te Grazie a tutti Grazie a tutti